Quando noi sulla nostra pianta ragazzi troviamo un fiore di pomodoro che è gigantesco rispetto agli altri, come questo qui, è la fasciazione, che significa adesso lo spieghiamo, questo è il fiore del pomodoro normale, questa è una situazione di generalmente ritorno di freddo per cui la pianta sul palco floreale, lo vediamo, eccolo qua, questo è un palco pieno di fiori, sulla parte apicale del palco dei fiori c'è una riunione di due, tre, in questo caso anche quattro fiori di pomodoro, si riuniscono tutti insieme, in genere questa situazione è dovuta a dei ritorni di freddo e è generalmente visibile su piante che hanno grandi pezzature di pomodoro, quindi sulle piante dei cuori di bue, questo è un bel monte gigante, lo possiamo vedere sugli scatoloni, che cosa accade? Quindi c'è questa riunione di un grappolo di fiori, in questo caso la pianta sul palco smette di crescere, giro in quest'altro verso, vi faccio vedere un attimo la situazione, ecco qua, vedete qui c'è questo palco di fiori che nell'apice ha la fasciazione, quindi la riunione di più pomodori, la pianta smette di crescere, però chiaramente dalle gemme delle ascelle emette le femminelle, quindi crescerà di nuovo, guardate la differenza, su questa pianta c'è questa fasciazione, è alta così, guardate quelle dietro quanto sono alte che non ha la fasciazione, quindi questa riunione strana di questi fiori in gruppo. Poi gli stessi steli si riuniscono in questo modo qua, generalmente questo fiore viene eliminato perché qui il pomodoro sarà appunto un pomodoro, sì è vero che è molto più grande, un po' storto, piatto e largo, sono quei 3-4 pomodori riuniti, però la pianta diciamo che dà molta energia a questa parte qua, il pomodoro non è commerciabile, chiaramente in casa invece lo possiamo mangiare tranquillamente, facciamo anche effetto di un pomodoro di un chilo, però la pianta ecco si divide in questo modo qua. Io la lascio soprattutto su quelle varietà di piante che crescono molto in altezza, quindi quelle piante indeterminate che vanno molto in alto, se mi capita la lascio perché fa queste poi tre o quattro femminelle, quindi rimane bassa e compatta e su queste chiaramente femminelle lei rimetterà di nuovo la parte fiorifica. Ecco qui c'è un'altra pianta con il fenomeno della fasciazione, lo togliamo questa volta, eccola qua, come vedete la pianta tendeva a rimanere bassa rispetto alle sorelle che sono molto più alte, quindi fate voi, se volete avere questo pomodoro bello grande da far vedere ai vostri amici ce la lasciate, però avete una pianta più compatta più bassa, altrimenti lo andate ad eliminare appena lo vedete sulla pianta e la pianta invece crescerà normale, farà dei fiori e frutti quindi non fasciati, quindi non riuniti e quindi normali. Chiudo qui anche questo video, iscrivetevi al canale se non lo avete fatto, attivate la campanellina, gli ultimi sei secondi sempre dedicati a altri link interessanti, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ciao ragazzi!